Ciao a tutti con me Ciccio, Ciccio a che ora ci vediamo domani? Ragazzi domani tutti alle 15 per ti fare ortigia ci serve il vostro sostegno dai dobbiamo riempire la tribuna Forza, forza Ragazzi vi aspettiamo domani per la partita del Brescia ci servite voi Domani alle 3 Domani alle 3 in cittadella Andiamo venite in piscina Magna la stresa in cittadella dai Ci vediamo domani Domani tutti in cittadella alle 3 Grazie